Le segretarie del sesso sono una fiction innovativa nel contenuto e nel linguaggio che si inserisce bene nella linea editoriale di Rayona? Beh senza dubbio perché è un tema vero, riflette l'organizzazione di un'azienda e le battaglie che avvengono all'interno dell'azienda e riflette anche il ruolo sempre maggiore che le donne hanno nel bene e nel male, nel senso che quando si compete per affermarsi accanto ai pregi si prendono anche i difetti di questa competizione. Che cosa si aspetta alla rete da questa fiction? Noi aspettiamo un buon risultato perché è molto Rayuno, è molto serrata, ha un bel ritmo, penso che prenda gli spettatori e quindi sono convinto che avremo un buon risultato di ascolto. E Rayuno continuerà su questa linea? Assolutamente sì, cerchiamo di fare meno costume e più attualità, cerchiamo di affrontare temi che siano nella realtà di oggi e non temi della realtà di passati lontani e questa è un pochino la strada che noi cerchiamo di percorrere. Grazie, allora buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.